Se eventualmente c'è la possibilità di mostrarlo, mentre ne approfittiamo per salutare questo cantautore sempre molto ironico, ecco lo vediamo in questo istante, sentiamo. Senza le macchine come cent'anni fa, ma se la storia non va indietro, il suo segreto al futuro insegnerà. È la ricetta che viene da Ferrara, lei che pedala, io che pedala, con sto petroio che ogni giorno mi rincara. Lui che pedala, tu che pedala, questa ricetta che viene da Ferrara, Lui si pedala, poi si pedala, sono migliaia di pedali di Ferrara, la domenica spasso sulla destra a po'. Basta vedere un po' questa città, senza la tangenziale del metro, a furia di essere antiquata, ora è la faccia della modernità. Per i turisti inglesi it's very cool, per gli automobili è peggio di Kabul. Da porta a porta in venti minuti, in bicicletta ci metti la metà, E' la ricetta che viene da Ferrara, lei che pedala, io che pedala, contro lo stress e la vita sedentaria. Lui che pedala, tu che pedala, questa ricetta che viene da Ferrara, lui si pedala, poi si pedala, sono migliaia di pedali di Ferrara, la domenica spasso sulla destra a po'. Lui che pedala, 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 tu che pedala, lui si pedala, poi si pedala, sono migliaia di pedali di Ferrara, la domenica spasso sulla destra a po'. Oppure andare, si pedala. E vai, e via. Ringraziamo Guido Fondis che aveva rivisto a sua insaputa, credo, in questo momento, il telare ci mancherebbe, anzi ancora di più forse. Certo, è un utente debole, tra l'altro ha la carrozzina a livello di tubo di scarico della macchina, quindi ancora di più bisogna togliere le auto dalle strade, perché quel bambino in carrozzina farà una risolta di... Qui te l'ho servito su un piazzo d'argento, questa era veramente facile. ...di Federico Aldograndi, che morì appunto all'alba di una domenica, e è un romanzo di invenzione, ovviamente, che parte da quella storia per inventarsi le modalità in cui è stato ucciso il protagonista del romanzo. Il protagonista, tra l'altro, è un giornalista ciclista urbano convinto ed è l'unica cosa che è in comune con me, l'essere un ciclista, e quindi è ambientato a Ferrara, quindi chi lo leggerà ritroverà anche dei luoghi conosciuti di Ferrara. Perfetto, in bocca al lupo per questo libro, edito Albatross, giusto? Grazie. Lo diciamo, visto che a volte l'editore è molto importante.